Ehm... Vieni! Maurizio... Tu stai... Tu... Tu... Viva! Guarda che posso fare una mia voce... Tu... 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 Questo... Questo voi... Tu stai da tutto il mondo, io lo voglio dire, eh? In fatto... Ci sei? In fatto... Metti le messe voi tu... Tu... In fatto... In fatto... In fatto... Posso mai sapere la parte... No... Ehm... Mi sono messo... E allora dita gli u... Tu... No... Giusto? Chiedi a me una Vestoraria... Tu... 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 Ehm... In상... Esatto... Ehm... In상... Esatto... Ehm... Allora... Allora... Ehm... Esatto... Buongiorno a tutti. sono tutti uguali tesoro, è ovvio vent'anni di mazzo così allora, attenzione 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 Grazie.